14 centimetri e mezzo il diametro di questa campana e mi bemolle la nota di base se ascoltate in cuffia c'è un armonico più basso sotto che ci indica che la campana è abbastanza versatile per lavorare sui chakra mentre sulla mano quello alto è più in fondo io lavorerei su tutti i chakra con questa campana e quindi e quindi e quindi